chi tanca era una domanda retorica non si deve rispondere assolutamente esatto sono cose brutte fai finta che tanchi benedetta così almeno ti autoconvinci che qualcuno si autocurerà l'importante è finirla no scusate ma scusate io non ria è uguale puoi andare di qui o di là ma vai da questa parte non me la fa prendere perché ho il caos non lo so perché sembra che lo colpisca dai fa lo stesso la chiave partita andiamo guarda che c'era già il buff non ci posso non ci devo guarda sopra i buffettini eh non lo sapevo vabbè basta andiamo ah e non le faccio tutti insieme l'ultima volta ci siamo morti male ah ma perché qui non si muore non c'era la sveglia di gondini per rompere qui le valle da rossa in effetti potevo mettermi il cerchiolotto non ci ho pensato Sì. via della no maledetto ti sei fermato lì ammazzare qualcun altro qui che voi sappiate beh questo qua la terra riprende da te li porto in giro così almeno non mi si fermano sulle forze non spero passire tempo però basta risposti ma se li trascino per lo meno non si fermano mai ma i mele fanno un po fatica e mele si attaccano come ma le volte cari miei ma non era meglio che c'è un moscerino nell'occhio anche se no tanto è solo un passaggio di responsabilità la responsabilità passa all'ile e tipo roma per cari te per cari te divina interrompete le ste cose quello non buone e 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 amiche è già morto meglio così perché stavo andando un po' con il sangue al naso esagerato sefano io ragazzi sono piccolino ancora adesso si si dicono tutti questo però poi vengo lì vi faccio il mazzo tutti però ancora no l'umiliazione ho sentito ho sentito voci di corridoio che ci sono degli leader che sono degli leader forti allora e perché non hanno ancora visto me capito perché non hanno ancora visto me ma meno male e che stai zitto loro non lo sanno ma quindi le voi che ti piace allora boh non lo so è una di quelle classiche o la mio lavoro no ma allora adesso è molto forte ma fra un po di danni una nerfata che metta basta vabbè però non mi pare che sia così ultra power rispetto agli altri quindi ma insomma no è carina è un po un po diverso dagli altri l'era meno dispiace è diversa perché è di fatto un mi drede che non è nemmeno e nell'altro infatti si no andava interrotto ragazze interrompiamo quella roba lì poi c'è una spella ragazzi che per curare devo correre in mezzo a voi ma ci può via davanti e c'è la detonazione che poi non ho ancora capito bene come come funziona certa loma poi sicuramente la mia spec non è massimo non riesco a riflettere in effetti anche io non ho capito bene come funziona io vedo che tante delle delle spell che fanno danno fanno curano anche quindi praticamente tutto si tratta di cioè allora fai sì ai paio di spec che curano e fanno danno ma ho visto ho visto da sì poi vabbè poi ci sono quelle che era lente cd le robe però mi sembra ne usi un po che fanno sia l'uno che l'altro comunque si userò questo qua perché comunque è l'unico che sto portando un po su ma anche il prete di cibi mi piace un casino attenzione ai botticetti che fanno malaccio sarà che sono abituato alle 14 ore ma muoiono veramente come e vabbè ma questa è una cosa non sei io che dal tanto al momento faccio un po a cagare ma sono fatti gli sboroni che non sono ammessi sono ammessi di sboroni no vabbè che tanto ma dobbiamo andare a fare l'alberello no all'alberello secondo me anche anche la serie un pene scatole e anche se non c'è tirante caldo la belle facili e chiami un pochino robota certo questo non so come potrebbe essere una mitica però c'è una mitica alta questa alla fine anche questo mi sembra facile però si sia il solo in questa settimana tutto il fuoco cioè il lancio quando arrivano le palline si mandano tutte nel fuoco che appena quindi si fa subito il fuoco non si fa se fanno subito il fuoco lancio il lì e quello faccio subito no sai cosa c'è un'ottima mobilità perché c'è un paio di scatti che sono molto utili soprattutto per evitare di prenderti delle ma ne posso vanno sconfiati questi no guarda dov'è la percentuale vabbè ho trovato sull'interfaccia dove è la percentuale dei movi ma non ce l'ho dovevo bastare ah se vuoi sì sì prima il fuoco no sì ero sì abbiamo ancora due minuti però al liro non c'è 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 ma è tanto l'iro che serve all'alberto o ce l'ho chiaro e mi scordo sempre che ce l'ho con questo caso è vero le cosettine lasceranno le forze rosse no no e rose rosse rose rosse vabbè allora tirò qualche blu ray eccoci eccoci l'ha detto l'ha detto era un pezzo quello dicevo è vero aspetti me lo so e ma tirato via perché ho sbagliato quando faccio una cagata non dico ma mi mo pensavo fosse una protesta tipo guarda stai sbagliando vieni indietro sai come i freddi che ogni tanto lì qua non so perché mi sono immaginato un parroco qualsiasi che tirano alcuna solda può essere fantasia malata oltre a me c'ha quello a forse lanter tali ma non ce l'hai che sgonfiare ho capito queste cose vanno a risalto sempre là perché non dovete stare dietro la pozza venite i fiorati e le saltano su di voi oh 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 ...divastimento... non c'abbiamo io non ho capito si si ce l'abbiamo soluzione 3 2 1 2 secondi ancora non ci ho visto ah e qua dobbiamo cercare di stare tutti vicini durante la generazione vorrei renderli ok per me sta meglio ammazzate questo è il pezzo peggiore sì perché se poi non ammazzi tutti i cosettini rischi di sperimenti di morire quando l'uscia all'1% no dai c'è Liller bravo questo Liller però com'è che si chiama? ma uno che si è raccattato uno scappato di casa uno scappato di casa uno scappato di casa niente di che volevo scrivere figone che mi è venuto fuori la o non c'era ma ci abbiamo già il bellissimo per favore no che questi trottolini fanno male al caltanca non è vero c'è c'è questo dungeon è il bambino pure perchè non ti devi nemmeno server lane a capire percentuali ecc 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 ha finito il giro ha finita anche la percettuale non è che fosse da ripozza di sbagliato di la verità io penso che sia un problema è che non stavo lì perché lì c'è la patro lo stavo cercando di stati qua ora la prendete ecco non era proprio quindi che volevo che volevo che andasse non l'avevo vista così la mia mente ma si no no lo so che la patola potete ancora prendere ma tutto vale di nostro potere abbiamo un hunter maledetto un'altra che c'è le frecce un po spuntate però capito non può parlare quindi scena per il patrio di sfogo con galla e abbiamo tutti dentro questi dentro dentro per l'amore di dio che sembra ma abituti zitto mamma mia troppo meno male è morto subito e poi c'è il boss inusile io questo boss ma che ti ho messo delle palline dorate intorno alla testa che non so cosa fanno hai detto che diventerà il domenico in realtà le palline dorate mi affido molto al dio culo tutti noi prima mi parlavi di gigi di cazzo e gg gingi ma che gg e chi è quello della cremeria no già non so la gg che è quella cremeria c'è gianni già oggi è raggi allora e diciamo che le vedi voti scarsi per studenti scarsi per te per te Grazie per la visione! Grazie per la visione!